No, no e poi ancora no. Ma è possibile che sulla ciclopista una parte del Comitato continui a rispedire al mittente le proposte di mediazione messe sul tavolo fino a questo momento? In Italia, per carità, ci siamo abituati. Il Partito del No ha bloccato opere fondamentali per la collettività, ma nel caso specifico l'irrigidimento su posizioni intransigenti appare illogico. All'interno del Comitato sono in tanti a chiedere di farla finita con questo atteggiamento. Può lanciare un messaggio al Partito del No? Che messaggio lancia? Di abbassare i toni, di lasciare perdere esposti o altre posizioni che altro non fanno che ne asprire i rapporti con chi ha fatto un grande passo in avanti. A noi di Rete Veneta che abbiamo seguito la vicenda sin dall'inizio sorge un dubbio. Non è che la politica si sia infiltrata e stia giocando alle spalle dei cittadini? Non sarebbe la prima volta e non ne saremo così sorpresi. Partiti e movimenti tendono a fare proprio le proprie battaglie che appartengono agli attivisti. Se fosse così capiremmo il no a oltranza di questi giorni. Ci sono interessi politici sotto. Ricordiamo a tutti i protagonisti della vicenda però che le premesse della battaglia per la ciclopista erano altre e giuste. Si doveva trovare un accordo. Questo è stato fatto. Sia il presidente della comunità montana sia il sindaco di Pove hanno fatto il possibile per venire incontro ai cittadini. Il Partito del No, continuando su questa linea, spara a salve. Attenzione che in vicende come queste è molto facile farsi manovrare.